Il canottaggio Ligure ha visto un momento importante nel weekend, si è presentato il nuovo comitato. Ieri abbiamo effettuato la festa del 2016 e abbiamo festeggiato tutti gli atleti, in particolar modo quelli che si sono distinti nella stagione, vincendo campionati italiani, indossando anche addirittura la maglia azzurra. Nel contempo abbiamo presentato alle persone, alla platea, anche il nuovo consiglio regionale, che è composto dal sottoscritto più altre sei persone, Luca Varacca del Murcarolo, Pietro Danino come vicepresidente dell'Elpis, Alessandro Magnasco del Rowing Club, Oscar Capocci della Speranza Pra e Riccardo Bricola del San Piederenesi e Guido Dioguardi dell'Urania. Tutte società di canottaggio della regione sono quasi tutte rappresentate. Dopodiché abbiamo anche fatto vedere i nostri obiettivi, quali sono nel quadriennio, sono principalmente incentrati su tre punti. Il primo è lo sviluppo della CTR, cioè della Commissione Tecnica Regionale, e della rappresentativa Ligure, in sintonia e in linea con quelli che sono i dettami della Federazione Nazionale. Dopodiché la promozione e la comunicazione. Progetti importanti per il futuro, su che base si parte? Come sta il canottaggio in Liguria? Dal punto di vista dei risultati agonistici direi molto molto bene. Come dicevo prima, anche nella stagione 2016 le società ligure hanno portato a casa ottimi risultati, sia in campo giovanile, sia in campo, chiamiamolo così, agonistico. Vogliamo continuare su questa strada. Tre punti importanti nel programma del canottaggio Ligure che verrà, come cercherete di svilupparli? Sulla Commissione Tecnica Regionale è stato nominato il nuovo coordinatore che è Stefano Melegari. Si avverrà della collaborazione di due tecnici, Maurizio Capocci e Andrea Ramella, e loro dovranno organizzare raduni, manifestazioni a cui parteciperà la nostra rappresentativa regionale. Sia come allievi cadetti, quindi come giovanile, sia anche a livello agonistico, quindi dalla categoria ragazzi in su, cioè dai 16 anni in poi. Per chiudere, sono progetti importanti, si lavorerà molto duramente, però il bello dello sport è che si può anche sognare, ce l'ha un sogno questo nuovo comitato? Il sogno è avere qualche nostro rappresentante della società Liguri a Tocchio 2020.